Matteo Crivellaro di Banca Etica che ci parla di un tema molto a mio parere molto importante, la finanza etica possibilmente per freelance, un piccolo manuale di sopravvivenza per mettere da parte un po' di soldi senza senza sfruttare il mondo e creando un better normal. Io devo dire che sono sempre molto felice quando Banca Etica viene al freelance camp perché noi con gli sponsor al freelance camp abbiamo sempre avuto un rapporto di questo tipo, non il classico sponsor che arriva e fa la marchetta sul palco, questi abbiamo sempre detto no per favore anche da un'altra parte, ma abbiamo sempre cercato degli sponsor che venissero a aggiungere valore alle nostre conversazioni e che venissero anche spesso per ascoltare ancora più che per parlare di quello che fanno loro e questo con Banca Etica devo dire è sempre è sempre successo tutte le volte che ci hanno fatto l'onore e il piacere di essere qui. Fino a oggi perché adesso che hai detto sta roba butto via il brogliaccetto e scherzo. No davvero, Matteo farà il suo talk e poi dopo il suo talk ci sarà anche un momento di networking corner quindi ci prenderemo una mezz'oretta per dividerci in gruppi nella quale chi vorrà approfondire poi il discorso sugli strumenti finanziari a misura di freelance potrà farlo insieme a lui. Grazie e buon talk. A voi grazie. Fa molto piacere essere qua. Constattavo prima che c'è una netta prevalenza femminile come dire tra gli astanti e mi collego a questo per dire che insomma Banca Etica è un po' donna un po' donna perché abbiamo aperto l'8 marzo del 99, la prima filiale, festa della donna e anche il giorno in cui mi sono laureato, 8 marzo 2006 perché abbiamo la presidente donna e penso che siamo l'unica banca in Italia probabilmente sicuramente la prima e quindi insomma così volevo condividere che Banca Etica è un po' donna e anche un po' freelance. Chiaramente noi tutti siamo dipendenti ma abbiamo qualcosa in comune con chi coglie la sfida insomma come un po' tentavo di dire nell'intervista coglie un po' la sfida di farcela con le proprie forze. Siamo una banca partecipata in mano a ormai quasi 50.000 soci che hanno una piccolissima quota di capitale sociale si può dire che siamo nati da un crowdfunding di fatto ancora prima che la cosa esistesse. Quindi ecco, sono molti punti di contatto. Due parole su di me. Matteo Crivellaro, sono di Padova credo si senta, 45 anni, due figli, una moglie, una casa in costruzione, quindi sono tanto contento di essere qui ma ho tanto pensiero di là di cosa sta succedendo. Lavoro in Banca Etica dal 2004, in generale in banca dal 96, vi racconto queste cose perché poi tutto si ricollega. Cercavo in quel momento qualcosa che mi consentisse di ritrovare i miei lavori anche nell'ambito lavorativo. Quindi provenivo da una banca diciamo di tipo tradizionale, una banca locale, però frequentavo commercio eco solidale, volontariato e non mi trovavo a mio agio nel ruolo professionale che avevo. Ho incontrato la neonata Banca Etica e lì sono rimasto fino ad oggi. Ho fatto un po' di tutto come consulenza in filiale, adesso lavoro in un ufficio che si chiama Ufficio Consulenza Investimenti Banca Assicurazione. Il mio ufficio si occupa di creare, tenere aggiornato e rendere fruibili ai colleghi i prodotti che servono ad arricchire e tenere sempre aggiornato il catalogo prodotti di consulenza. Quando siamo nati come banca l'idea era molto semplice, raccolta a vincolata scadenza, quindi con degli strumenti molto semplici, i vecchi libretti di risparmio, i certificati di deposito, per prestare soldi al terzo settore. Ben presto però ci siamo accorti che le esigenze dei clienti e dei soci erano altre e che se volevamo consentire ai clienti, ai soci di avere un'esperienza bancaria unica con noi, dovevamo aggiornare e ampliare la gamma dei servizi. Abbiamo introdotto così i conti correnti, con i conti correnti sono arrivate anche le famiglie, le loro esigenze di essere finanziate, quindi non solo non profit, anche i mutui, queste cose qui. Di fatto ad oggi siamo una banca a tutti gli effetti, con tutti i servizi di cui una persona normale e un freelance può aver bisogno, con esclusione del blocchetto assegni, ma io credo che l'ultimo qui presente che abbia staccato un assegno dal blocchetto siamo passati diversi anni. Ecco, mi hai fregato subito. Serve per le cauzioni di solito, è lì che siamo un po'... In particolare le evoluzioni hanno riguardato proprio i prodotti del risparmio gestito, ovvero nel 2003 abbiamo cominciato a introdurre anche una gamma di fondi comuni di investimento, con un grande dibattito interno, che poi è seguito anche per quando abbiamo introdotto il fondo pensione, perché i fondi comuni di investimento sono comunque strumenti dove si va a investire comunque in borsa. La finanza etica? Eh no, puoi fare molto con i fondi, perché vai a selezionare solo settori che non siano nocivi per l'uomo, quindi selezione negativa. Di quello che rimane premiamo i cosiddetti best in class, quindi selezione positiva. Facciamo azionariato attivo, quindi ho un collega che per lavoro va nelle assemblee soci a dire, fra l'altro si presenta sempre con dei calzini che potrebbero essere quelli che c'erano nella borsa che mi avete gentilmente dato oggi, che deve capire in assemblea soci con dei calzini simpaticissimi a votare e anche a fare cordate, influenzare i voti di altri soci indecisi su tematiche di rilevanza, va di moda l'acronimo ISG, no? Environmental, Social e Governance. Quindi criteri negativi, positivi, azionariato attivo e microcredito, perché attraverso i fondi alimentiamo anche un fondo di garanzia per i progetti di microcredito. Riprendo un attimo il filo del discorso, perché non volevo allungarmi troppo nell'elencazione dei prodotti, però abbiamo, diciamo, la cosa più recente che abbiamo scoperto, che era necessario fare, abbiamo realizzato che era necessario fare e abbiamo deciso con forza di fare, è ampliare la gamma con prodotti di previdenza e di protezione, quindi prodotti di cosiddetta banca assicurazione. Allora, va da sé che nel pensare comune, insomma, almeno chi è del settore, dice le banche che fanno assicurazioni perché? Perché con i tassi di interessi che ci sono in questo momento qui, la forbice su cui la banca guadagna, cioè la differenza tra tassi sulla raccolta e tassi sugli impieghi è molto molto sottile, quindi si sono assottigliati i guadagni e qui leggete chiusure di filiali, accorpamenti, estrategie, cose varie. Ecco, con l'assicurativo uno fa un po' di margine. Ok, grazie. Ecco, noi non l'abbiamo fatto per quello, perché stavamo in piedi lo stesso, la nostra sfida alla sostenibilità la stavamo vincendo comunque, ma l'abbiamo fatto per un motivo che adesso vi spiego anch'io con una scenetta che però faccio da solo. Una cosa che mi capita spessissimo, che mi capitava spessissimo da sportellista, era consulente, sembra un altro mondo pensare che uno sta allo sportello a parlare con un cliente, adesso facciamo tutti i mit. Va bene, allora abbiamo questi prodotti, un po' come vi ho raccontati adesso. Allora, lei per quanto tempo vuole investire? Ma poco. Ma quanto poco? Due, tre anni. Ma come mai? Ma non si sa mai se succede qualcosa. Questo succede qualcosa è l'imponderabile. Cioè, come commerciale, come ti poni davanti a uno che ti dice se succede qualcosa? Quale imprevisto? Cioè, cosa può succedere? All'epoca io non avevo i mezzi per approfondire questo se succede qualcosa e dovevo limitarmi a dire, ah vabbè, se ha paura, stiamo su breve termine, investiamo obbligazionario misto, breve termine, prendiamo poco, rischiamo niente e fra tre anni siamo tutti contenti o scontenti, perché di questo periodo qui chi investe nell'obbligazionario o pareggia o perde, perché con i tassi che ci sono, a causa di tutte le crisi, ma non mi dilungo, questi sono strumenti dove si ha forse la garanzia di capitale. Ma chiudiamo la parentesi. Oggi io posso mettermi davanti al cliente e dire, se succede qualcosa, diamogli un nome, è un elefante enorme, non posso mangiarmi un elefante, però posso farlo a fettine, facciamo la fettina insieme. Allora, cosa ti preoccupa? La previdenza? Abbiamo un fondo pensione, ti spiego come funziona. Cosa ti preoccupa? Hai una casa? Hai dei figli? Hai un cane che aggredisce le persone anche se solo per fargli le coccole? Hai dei figli che aggrediscono le persone solo per fargli le coccole? Non lo so. Ci sono anche queste situazioni. Oppure hai o temi di poter avere un infortunio, un incidente o di morire? E a causa di questo te o i tuoi familiari restate magari con un debito? Oppure i tuoi familiari rimangono, e tu? Rimanete senza una fonte di sostegno nel momento in cui tu non puoi più lavorare? Voi ragazzi siete tutti, dico ragazze perché cacchio è il 70%, siete tutte lavoratrici autonome. Se voi non lavorate, chi la porta a casa la pagnotta? Qui sono interrogativi a cui finalmente abbiamo degli strumenti per dare risposta. Abbiamo degli strumenti anche per integrare per esempio il Servizio Sanitario Nazionale attraverso una copertura di tipo sanitario, abbiamo le risposte a tutte queste esigenze e quindi lo facciamo, torno a bomba per dire, sì è chiaro che su questi prodotti che la banca intermedia prende qualcosina, ma il primo bisogno che andiamo a soddisfare è un bisogno che noi abbiamo realizzato, essere presente in larga parte della nostra clientela ed essere meritevole di una risposta e di una affiancamente una consulenza, perché queste domande scomode che io vi ho fatto adesso, vi ho accennato adesso, che poi potremo approfondire nel networking corner, solitamente la gente non ci vuole pensare. L'italiano medio punta su la rete di solidarietà familiare, c'è sempre mia madre, c'è sempre mia zia, c'è l'amico avvocato, si assicura per la macchina perché è obbligatorio e per la casa se c'è il mutuo, perché è obbligatorio, oppure se c'è qualcosa altro che è obbligatorio, se no non si è sicura. Ecco invece il compito nostro di consulenti in cui io credo profondamente è proprio quello di far emergere questi bisogni e comunicare l'esistenza di soluzioni, poi uno le può prendere, non le può prendere. Una volta che io ho smontato l'elefante, l'ho fatto a fette, posso finalmente guardare in faccia il mio cliente e dirgli bene, con quello che rimane, perché mi ha speso in polizia una cifra, no scherzo, guardiamo al tuo obiettivo di investimento, che obiettivo hai, che propensione al rischio hai, cosa vuoi che serva a questo patrimonio e allora decidiamo insieme quale componente azionaria, quale componente obbligazionaria, con serenità, perché l'imprevisto non si gestisce con il patrimonio finanziario. Per anni ci abbiamo provato, avevamo i piani di accumulo, i piani di accumulo sono dei modi di investire in fondi comuni di investimento graduali, ma dovevo mettere a parte qualcosa per il futuro, fantastico, quello fa per lei, il piano di accumulo, ma sa, volevo mettere qualcosa da parte per gli imprevisti, non si sa mai, per mio figlio, fantastico, abbiamo un piano di accumulo, serve proprio per questo, facciamo solo piani di accumulo. Adesso invece finalmente possiamo fare il nostro lavoro in maniera completa. Non vi tedierei oltre, vi invito chi ha voglia e tempo di approfondire a un momento che io avrei pensato veramente come un laboratorio dove ognuno mi può chiedere, ci confrontiamo, poi la domanda di uno può essere la risposta a molti. Vi dico come ultima cosa che è stato messo a disposizione per questa occasione una pagina intera dedicata ai freelance con i prodotti che noi Bancaetica abbiamo pensato siano più adatti per le vostre esigenze. Quindi Bancaetica slash freelance trovate tutto quello che vi ho brevemente raccontato.